Buon mercoledì 3 aprile. In continuità con l'invito a un approfondimento dell'aspetto ecologico ma in una prospettiva, in una visione antropo-spirituale, faccio riferimento al ricchissimo materiale che è emerso durante i giorni della Pasqua. Porterò degli esempi attraverso i quali possiamo rileggere anche il nostro modo di porci relativamente alla questione ampia della salute mentale a partire dalle problematiche alcol correlate. Sappiamo che la Pasqua, questo passaggio, rappresenta anche simbolicamente una transizione dalle tenebre al buio. Certamente oggi viviamo una condizione umana particolarmente densa di nubi, di buio, di assenza di punti di riferimento che possano sollecitare la luce di una speranza che renda possibile il trovare il coraggio per andare avanti. Ci troviamo tristemente arretrati, fermi, immobili, impauriti e tutto questo poi si traduce anche nelle sintomatologie cosiddette psichiatriche. Penso in particolare a tutta quella serie di sintomatologie che si trovano sotto la voce depressione, ansia, attacchi di panico. Di che cosa abbiamo paura? Qual è quel male oscuro e tenebroso che attraversa l'umanità anche e soprattutto nei paesi più ricchi e privilegiati? È definito il male oscuro della depressione. Mancanza di luce, questo è il significato più autentico di depressione, assenza di luce, non vedi luce, sei annichilito, vedi oscurità, ci sono alcuni anche comportamenti simbolici del depresso, chiude le finestre, chiude le tapparelle, vuole stare al buio. Sembra essere l'unico luogo nel quale si trova a suo agio. Ha paura della luce, sì. Ha paura di essere probabilmente accecato o forse semplicemente ha trovato un rifugio che lo conforma alla realtà esistente perché vi è una sintonia tra le tenebre della mondanità che si dà un grande affare per spadroneggiare su questo pianeta e questo atteggiamento esistenziale del depresso, che è una persona sostanzialmente triste, incapace di trovare il coraggio di sorridere perché ovviamente nelle tenebre è molto difficile trovare il coraggio per sorridere. Ripeto, prenderò degli esempi, degli spunti dalla cronaca, dai giornali, in particolare faccio riferimento a un articolo apparso su Repubblica Online la domenica di Pasqua e si riferisce ad alcune considerazioni relative alla guerra in Ucraina e il protagonista di queste riflessioni è il cardinale Zuppi. «Tenebre terribili, la Pasqua non ha vie di mezzo, o stai con la luce o con il male». Luce e male, luce e tenebre, bene e male, non ci sono sfumature. Siamo in un momento nel quale dobbiamo assumerci la responsabilità. Certo, direte, facile dirsi quando vivi nei paesi privilegiati, ma questi paesi privilegiati però creano anche condizioni esistenziali nelle quali perdi la voglia di sorridere, di celebrare la vita. Così si esprime il cardinale Zuppi nelle pagine di Repubblica. Pasqua è la luce che vince le tenebre e noi stiamo sperimentando delle tenebre profondissime. Non è solo la guerra, sono anche le condizioni esistenziali e attenzione perché la sintomatologia espressa nel vivere nelle tenebre si traduce poi anche nei comportamenti dissipativi che appunto avvengono all'ombra delle tenebre. È un'espressione poco felice sicuramente, ombra delle tenebre, ma a mio parere è particolarmente efficace per poter descrivere una condizione umana. Facciamo festa, facciamo serata, stare nelle tenebre ubriacandosi. Forse ce ne dimentichiamo o abbiamo vissuto con tante luci artificiali, finte, che pensavamo di poter accendere e spegnere a piacimento. E tra queste luci effimere vi è anche la luce dell'intossicazione etilica o da altre sostanze psicoattive che pensiamo di poter accendere e spegnere a nostro piacimento. Ci accorgiamo invece di tenebre terribili che spengono la vita di migliaia di persone, la vita di innocenti in tanti luoghi nel mondo, in particolare in Ucraina, in Terra Santa, nella striscia di Gaza. Quanta desolazione! Lo afferma appunto il presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi, nel messaggio di Pasqua diffuso dalla diocesi di Bologna di cui è vescovo. Ancora continua il Cardinale Zuppi in questo suo messaggio. Dovremmo sempre guardare attraverso le lacrime dei bambini, attraverso il pianto dei più piccoli e fa osservare Zuppi che capitano, scusate, e che lì, osserva Zuppi, è lì che capiamo tutto l'orrore e la violenza della guerra, dell'ingiustizia e quanto tutto questo è inaccettabile. Scusate per le difficoltà di lettura, pazienza e nulla rispetto alle difficoltà che vivono questi bambini. Non possiamo abituarci alla guerra. Per questo auguro una Pasqua di luce. Nella Pasqua nessuno è spettatore, siamo tutti attori. Nella Pasqua non c'è una via di mezzo, o stai con Gesù, o resti con, o resti, scusate, e resti nell'amore, con l'amore, con la luce, con una forza che sconfigge quelle tenebre terribili, oppure diventi complici, complice del male. O stai da una parte o diventi complice del male. Non puoi semplicemente stare a osservare. È un invito semplice, un materiale che ci aiuta a riflettere, a meditare e a far sì che non facciamoci accecare dalle effime le luci di intossicazioni estemporanei, che cercano di sanare una situazione tenebrosa. Io credo che la luce sia presente, non è che manchi. Magari è flebile, magari è nascosta. Dobbiamo trovare due modalità del coraggio. Quello di andarla a scovare e poi trovatela. Seguire il suo orizzonte, ecco perché anche il mese di prevenzione arcologica, riletto in chiave antropo spirituale, è un'occasione per uscire dalle tenebre che caratterizzano la nostra antropologia nella contemporaneità, incapace di cogliere l'essenza stessa di una luce che è generata, nel meraviglioso stupore di una natura che si apre ad accogliere la luce. L'argomento tenebre luce diventi un'opportunità attraverso la quale rivisitiamo criticamente la nostra esistenza. Facendo sì che non ci sia da parte nostra un tentativo giudicante, supponente nei confronti del prossimo, ma un atteggiamento di condivisione. Viviamo tutti, ugualmente nelle tenebre e tutti ugualmente insieme possiamo cogliere anche semplicemente un lumicino che ci orienti, che ci attragga con passione, con senso profondo dell'andare verso. Anche se quel lume è flebile, è lì che troveremo, non la risposta, ma l'orientamento per elaborare le tante domande che sono state generate dalle tenebre e che poi si concretizzano nel nostro modo di stare al mondo sul piano esistenziale, appunto, sul piano antropologico, che è il senso attraverso il quale l'essere umano cerca di interpretare la propria esistenza senza chiudersi in sé stesso. Dunque spalanchiamo le finestre, lasciamo entrare la luce e affacciamoci alla luce, proseguendo con coraggioso cammino nello stupore per il continuo risorgere della bellezza nella natura. Tempo di Pasqua, tempo di cammino, tempo di transizione, tempo di passaggio, ma soprattutto tempo di liberazione. Buona giornata a tutte e a tutti.